Cari telespettatori bentornati in diretta siamo pronti per una nuova puntata di Primo Cittadino come vi è stato annunciato da Lino Balestra al termine del nostro telegiornale Occhio alla Notizia l'ospite di questa sera è il sindaco di Cogli al Metauro Stefano Guzzi buonasera e bentornato nei nostri studi Buonasera a Simona e buonasera a tutti i telespettatori Ricordo anche che possono mandarci un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250 oppure potete intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 Sindaco io direi di partire con un recente taglio del nastro perché la scorsa settimana è stata inaugurata una rotatoria che ha messo in sicurezza l'incrocio, ecco qua vediamo le immagini dicevo l'incrocio tra via Carbonara e via Ponte Metauro a Villanova Sì questa era una delle molte opere, ce ne sono diverse, che erano diciamo così state pensate da diversi anni dalle amministrazioni precedenti poi per una serie di motivi, indubbiamente difficoltà economiche di questi piccoli comuni che in quegli anni non avevano risorse ma come in questo caso secondo me è proprio una questione più burocratica perché in questo caso non ha pagato il comune di Cogli al Metauro questa è un'opera completamente realizzata dalla detta LIM, una detta privata che 5 anni fa ha ottenuto dall'allora amministrazione dell'ex comune di Montemaggiore un permesso per aprire una cava in quel territorio e diciamo così per compensazione verso il comune di allora di Montemaggiore avrebbe dovuto realizzare un'opera e l'allora amministrazione, la sindaco Verdini, decise di proporgli questa rotatoria che è un po' l'ingresso di Villanova un ingresso dove le persone, le auto vanno anche molto veloci eccetera quindi non tanto è solo mette in sicurezza un incrocio comunque pericoloso come quello tra via Ponte Metallo e via Carbonara ma rallenta proprio il traffico in ingresso verso il centro abitato di Villanova ecco, quest'opera era stata lasciata un po' così, ripeto, nel dimenticatoio io ne sono venuta a conoscenza di questo progetto, di questa idea dopo che ero già sindaco a Colli l'ho riproposta alla detta LIM la convenzione soprattutto era anche scaduta quindi poteva al limite la detta dire anche vabbè non me l'avete chiesta nei tempi che erano dovuti ormai sono passati 5 anni invece no, è stata disponibile la detta LIM che torno a ringraziare quest'opera è stata portata avanti con attenzione, con serietà devo dire anche in maniera un po' folcloristica che quando si sono iniziati i lavori un po' su Facebook un po' anche personalmente alcune persone ma lì viene male di sicuro perché è troppo stretto lo spazio poi è tutta fuori asse cioè tutta una serie di critiche preventive diciamo così che io mi ricordo un giorno avevo scritto su Facebook volete aspettare che sia finita poi magari la giudichiamo ecco, devo dire che invece è venuta molto bella funzionale è anche carina come ingresso del centro abitato ma soprattutto funziona poi in corso d'opera abbiamo avuto anche la sollecitazione da parte di alcuni consiglieri comunali lì del territorio Cristian Bellucci mi ricordo è un consigliere comunale della mia amministrazione ha fatto proprio presente questo problema che c'era lì un problema di attraversamenti pedonali e proprio in corso d'opera non erano previsti abbiamo aggiunto anche dei marciapiedi che fanno passare di fatti i pedoni esternamente alla rotatoria quindi abbiamo messo in sicurezza anche diciamo l'attraversamenti pedonali ecco lo vediamo in questo momento in questo caso la detta dice beh noi abbiamo già i nostri preventivi sapevamo che dovevamo spendere un tanto e non più e io gli ho detto vabbè quello che facciamo di più facciamo metà per uno quindi è venuto fuori una 15 mila euro e il comune ha messo da parte su 8 mila euro possiamo parlare anche di un'altra rotatoria ma in questo caso ci spostiamo all'uscita della superstrada vediamo qua oggi ecco un'altra delle cose che giustamente alcuni cittadini hanno sostenuto dice fate una rotatoria in via carbonara che serve di meno e non fate quella di calcinelli ecco quella di calcinelli che vediamo adesso all'uscita della superstrada è veramente un punto lì molto 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 delicato e pericoloso perché è un imbocco su via Ponte Metaro anche in questo caso traficatissimo ma che spesso quello stop causa file che arrivano addirittura fin dentro la superstrada in qualche momento quindi pericoloso non tanto e solo nell'incrocio ma anche proprio nell'uscita stessa della superstrada e anche in questo caso devo dire anche in questo caso devo dire è una di quelle opere che era già stata pensata ma c'erano anche degli atti in più diversi anni fa c'era l'allora giunta Cicoli Fabio Cicoli un caro amico oltretutto che aveva pensato e portato avanti insieme alla provincia perché la strada è provinciale quindi è più responsabilità tra virgolette della provincia però poi sappiamo benissimo che se non è il comune interessato che spinge la provincia non ha sempre le risorse per fare le cose quindi a suo tempo l'amministrazione Cicoli e l'allora provincia quindi parliamo del 2013 credo o 2014 avevano pensato questa iniziativa hanno fatto una convenzione dove si pagava metà per un dunque pagava a suo tempo ci vogliono 300.000 euro 200.000 alla provincia 100.000 al comune di Saltara che allora era Saltara e si sarebbero dovute portare avanti le opere un po' come sono state portate avanti adesso poi cambiò a suo tempo l'amministrazione io ripeto non entro nel merito né tantomeno critico il perché non si sia poi dato seguito a quell'accordo ma anche questo è finito nel dimenticatoio quindi non c'erano più risorse né da parte del comune tantomeno poi di Colli quando nacque dopo la fusione diciamo molte cose sono un po' perse per strada nel dibattito eccetera ma neanche dalla provincia la provincia non aveva più risorse quando io ho rispolverato questo progetto che era ancora nei cassetti abbiamo quindi richiesto all'ANAS di nuovo il parere preventivo che ce lo ha ridato positivo abbiamo rifatto una nuova convenzione con la provincia dieci viaggi ci sono fatti in provincia il presidente Paolini l'attuale presidente dice e se poteva dire no mi hai chiamato cento volte ma l'ha detto quel giorno che abbiamo inaugurato la rotatoria quella mattina lì ma no è giusto che ci stiamo dietro le cose la provincia dal canto suo mette solo centomila cioè quest'anno questa volta non è più duecento e cento ma è centocinquanta e centocinquanta l'accordo nella convenzione il comune cosa doveva fare doveva anche rimuovere le cisterne e risanare il vecchio distributore di benzina che è lì ma la cosa che ci ha voluto più tempo che vediamo adesso che ci ha voluto più tempo è che quell'area è un'area privata che in quella convenzione fatta dalla loro amministrazione cicoli quel privato si è rimpegnato a dar quell'area gratis purché venisse risanato da parte del comune il privato era ed è stato era tuttora disponibile a ridare quelle aree però nel frattempo erano cambiate un po' di condizioni adesso non entro nel merito ma quell'area aveva delle ipoteche sopra non era più di sua completa disponibilità quindi al di là della disponibilità del privato che c'è stata e ringrazio abbiamo dovuto fare la fuga alla banca che in qualche modo ha dovuto autorizzare e anche lì abbiamo dovuto dimostrare che togliendo l'ipoteca su quell'area non ci sarebbe stato un danno per diciamo i valori dell'area anzi c'era qualcosa di positivo perché avremmo risanato un'area che era indubbiamente in disuso con ancora le vecchie cistene del distributore eccetera quindi tolta l'ipoteca della banca rifatto l'accordo col privato rifatta la convenzione con la provincia riottenuto dall'anos il parere positivo tocca mettere i nostri 150.000 euro e 150 alla provincia arriviamo la provincia non ce li ha non ce li ha non ce li ha di conseguenza dopo altri due viaggi l'ultimo dieci giorni fa in provincia si stabilisce che la rotatoria si fa perché è la provincia che la deve appaltare perché quella è la strada soprattutto provinciale l'appalto lo deve fare la provincia quindi il comune a questo punto ha risanato l'area togliendo le cisterne del vecchio distributore le ha prese in proprietà le cede alla provincia dà i suoi 150.000 euro che il comune ha e li dà alla provincia la provincia mette quest'anno solo 50.000 euro quindi 200 e non 300 in tutto però bastano per fare la rotatoria funzionale senza le rifiniture senza i marciapiedi finiti intorno c'è un primo stralcio diciamo così e questo la provincia riesce a finanziarla quest'anno quindi riesce a mettere i suoi 50.000 questo vuol dire che entro l'anno si fa la grada appalto e in primavera si fanno i lavori però qual è l'impegno che abbiamo chiesto alla provincia non va bene che il comune mette 150 e voi solo 50 allora la provincia il prossimo anno metterà altri 60.000 euro sempre meno del comune ma altri 60.000 euro per le rifiniture diciamo così necessarie alla rotatoria ma anche per l'asfaltatura completa di via Ponte Metauro dal semaforo fino al sottopasso della superstrada poi faremo anche un camminamento pedonale sotto la superstrada per mettere sicurezza i pedoni noi come comune visto che faremo gli scavi rifaremo tutta la linea dell'illuminazione pubblica cambieremo quei vecchi lampioni che sono tutti obsoleti Marche su molti servizi che ho già allertato ha già fatto i sopralluoghi risanerà tutte le fognature e l'acquedotto che passa sotto visto che muoviamo una volta si fa tutto ecco via tutta via Ponte Metauro dal semaforo fino al sottopasso della superstrada sarà completamente risanata messa in sicurezza sistemata è una via vita completamente nuova un'immagine completamente nuova questo tutto alla prossima primavera tutto la prossima primavera però intanto avete iniziato anche a ripristinare tutta la segnaletica orizzontale in diverse zone del comune sì è un lavoro che tendenzialmente si fa tutti gli anni lo stiamo facendo in questo momento anzi la detta sospese i lavori i giorni scorsi per la pioggia è rimasto indietro mi pare tavernelle e credo mi diceva stamattina la comandante dei vigili che credo che la detta dovrebbe già tornare domani e riprendere insomma quello che c'è rimasto da fine c'è rimasto alcune zone che poi sono anche delicate come via Barca via Tavernelle dove c'è anche un problema di velocità quindi devono rifare le stigie pedonali sì stiamo rifacendo un po' tutta questa segnaletica in tutti gli incroci pericolosi particolarmente le zone vicino alle scuole per mettere in sicurezza quindi l'attraversamento di pedonali eccetera per quanto riguarda il piano di asfaltature visto che ci siamo allora il piano di asfaltature noi partirà la prossima primavera allora no succede questo è successo succede questo che noi quest'anno abbiamo fatto un piano di asfaltature abbastanza cospicuo per 500 mila euro e l'abbiamo realizzato durante l'estate sono state fatte diverse vie poi è chiaro un comune grande come Colli perché è molto grande come territorio può sembrare una goccia nel mare a parte che non è una goccia nel mare è stato un bel intervento però è chiaro che si è iniziato un lavoro erano 30 anni che non si asfaltavano le strade in quel territorio tranne qualche piccolo intervento che era stato fatto negli anni il grosso delle strade sono tutte strade che 30-40 anni che non si asfaltano come purtroppo è un po' in tutti i comuni non ci sono le risorse non è che uno lo fa apposta quindi noi abbiamo iniziato con questi 500 mila euro abbiamo realizzato diversi interventi via Villa Franca via Ciavarini via Marconi a Calcinelli poi via delle Querce via Molinello via Tenaglie su a Tavernelle via del Castello via Montedei Rossi via da Serra via su a Montemaggiore abbiamo fatto una serie di interventi diciamo così cospicui che si sono anche visti anche apprezzati eccetera è chiaro che cosa succede? che quando non si asfalta niente sembra tutto normale così ci si lamenta per le buche ma tutto va bene quando si comincia a fare qualche intervento arrivano tutte le proteste ah perché avete asfaltato lì ma qui no avete fatto via Villa Franca ma non avete fatto via Gobetti avete fatto quello non avete fatto ci sta è normale allora tant'è che proprio ieri durante un pranzo con un'associazione a Calcinelli c'era un po' di queste lamenti e l'ho detto dico ma le proteste arrivano quando si cominciano a fare le cose quando le cose non si fanno sembra che sia normale però cosa abbiamo fatto? al di là di questo intervento che era quello previsto per il 2019 ed è stato concluso ci siamo accorti a metà anno era già giugno che avevamo delle somme a disposizione avanzate l'anno precedente abbiamo rifatto sempre sul 2019 non quindi sul prossimo anno poi ci arrivo sul prossimo anno abbiamo fatto un appalto veloce proprio durante l'estate li sono stato dietro io proprio tutti i giorni all'ufficio tecnico per asfaltare delle strade importanti che sono completamente diciamo disastrate via dei laghi via del progresso che sono le due zone industriali di Calcinelli più importanti e poi con il ribasso d'asta ci esce qualcos'altro via Belvedere ad esempio pensiamo di fare forse anche qualcos'altro con il ribasso d'asta e lì la scommessa era ed è tuttora quella di poterlo fare prima dell'inverno cioè già quest'anno ed è stata proprio una corsa perché per fare una gara d'appalto il progetto la gara d'appalto eccetera passano 6-8 mesi invece noi ci abbiamo pensato giugno per realizzarla adesso ecco non ci scommetterei più di tanto però c'è ancora la speranza se il tempo non continuasse a piovere di continuo che entro novembre si ci mette le mani in via del progresso in via Laghi se per caso il tempo non lo concede perché piove la ditta a questo punto non si insedierebbe è un lavoro che va a finire passato l'inverno però è già appaltato è già finanziato la ditta anzi in teoria dovrebbe venire adesso vediamo se ci saranno le condizioni poi che succede? è chiaro che noi adesso stiamo predisponendo il bilancio per il 2020 e sul 2020 metteremo altre cifre vedremo quanto adesso non voglio dire prima di vedere com'è il bilancio complessivamente metteremo qualche altra centinaia di miliardi di euro anche sul prossimo anno e ci sono tanti interventi ancora da fare penso a via Carbonara penso alla zona di Postavecchia Valle Gramsci e via Gobetti che ci sono insomma delle situazioni indubbiamente da verificare che non sono state fatte finora e dovranno essere fatte il prossimo anno per proseguire indubbiamente ci puoi raccontare un po' che cosa è successo dal momento in cui lei è stato eletto sindaco perché inizialmente doveva essere una fase un po' di assestamento quindi ora invece si pensa finalmente ad eseguire copre pubbliche intanto c'è questa situazione lì c'è una chiamiamola un'opinione pubblica divisa in due parti nel senso che c'è una parte di cittadini quelli che erano meno convinti della fusione che tendono lo dico scherzando ma è vero in realtà spesso discuto con le persone eccetera che tendono a mettere un po' in negativo sempre le cose come dire ah era meglio prima perché vedi adesso ci sono ritardi eccetera eccetera c'è una parte di popolazione quella che era più convinta della fusione che era stata diciamo così sdrammatizziamo ma era stata un po' illusa come dire facciamo la fusione facciamo la fusione che poi dopo si potrà fare tutto ci saranno i soldi per fare tutto diminuiranno le tasse eccetera eccetera non è vero l'una e non è vero l'altra nel senso che quando si fa una fusione di tre comuni come è avvenuta a Colli amministrare è molto più difficile di prima è molto più costoso di prima nel senso che tu devi riorganizzare tutta la macchina devi cercare di coprire anche le necessità del personale perché manca perché poco a Colli poi siamo del tutto sottostimati come personale lavori su tre sedi diverse quindi anche il personale stesso un po' a saltare un po' a calcinelle un po' a Montemaggior quindi anche tra uffici le collaborazioni l'informatizzazione stessa in un comune fatta in un modo in un comune fatta in un altro la tassazione in un ex comune fatta in un modo in un ex comune fatta in un altro il piano casa se sei di Montemaggior lo puoi fare altro di che lo stupitaggi 5 metri se sei a saltare lo puoi fare 5 metri e mezzo se sei a salungrino puoi fare 4 metri e 80 cioè era tutto fatto nulla questo sì devo dirlo non era stato fatto nulla preventivamente si è arrivati quindi a fare questa fusione un po' di corsa poi è arrivato il commissario i primi sei mesi ovviamente non ha messo le mani in questa organizzazione diciamo così che il primo anno della nuova amministrazione la prima amministrazione di Cogli al Metaro che vede a me come sindaco il primo anno è stato passato solo a riorganizzare queste cose non c'era nessun progetto diciamo così lasciato dalle vecchie amministrazioni perché non c'erano le condizioni per farlo non c'erano i soldi ma soprattutto avevano lavorato per la fusione l'anno precedente non l'avevano lavorato magari per la progettualità quindi non c'erano opere da portare avanti non c'erano soldi disponibili per fare le cose se non le opere lasciate dalla palestra di Villanova che è stata poi da noi realizzata in seguito quella era l'unica cosa che abbiamo trovato in itinere tutti i regolamenti da fare cioè dovevi assumere una persona c'erano tre regolamenti diversi cioè a Guzzi si insedia la nuova amministrazione di Colle si insedia era come amministrare tre comuni diverse e non è facile quando il personale è poco disseminato su tre sedi con attività completamente diverse dall'un dall'altro uno era evitato lavorare in un modo con un certo sistema l'altro con un altro sistema con un'altra consuetudine con un'altra abitudine è stato difficilissimo io devo dire la verità ma devo dire la verità l'ho detto con alcuni amici non più di tanto ma io al primo anno mi sono trovato perso io dopo i primi mesi sono andato con molta buona volontà e se mi permettete non dico con delle certezze però un po' di esperienza ce l'ho dico amministrato realtà anche più complesse indubbiamente cercherò di essere utile anche a Colle al Metaura anche in quelle realtà eppure il primo anno mi sono trovato davvero molto spiazzato non c'è proprio non c'era l'organizzazione cioè avevo delle cose in testa ne parlavo con qualche mio collaboratore ma non avevo poi la possibilità di operare non c'erano le condizioni non c'era proprio il personale disponibile non c'era diciamo la praticità delle cose per poterla portare avanti non avevi il raffronto non avevi il confronto con chi avresti voluto lì dentro cioè proprio a volte succede che arrivi in comune apro e chiudo io nel senso che ci sono Colle al Metauro ha neanche 40 dipendenti ne dovrebbe avere quasi 80 per quel che riguarda e non potrà assumere e non assumerà quindi perché le leggi non lo consentono ci sarà un turnover se uno va in pensione si può sostituire altrimenti si rimane così però adesso questo è il primo anno quindi il primo anno è stato quella della riorganizzazione e lì devo dire la verità mi sono trovato seriamente in difficoltà poi io sono un tipo che non è che mi abbatto e non mi spavento e le cose le abbiamo ovviamente affrontate è arrivato il secondo anno che di fatto è questo perché noi siamo neanche due anni e mezzo adesso dove la riorganizzazione per quanto è stato possibile perché le sedi ancora sono tre il personale ancora è poco però i regolamenti sono stati fatti piano a casa è stato fatto unico i regolamenti 12 regolamenti diversi sono stati unificati come comune unico il primo anno quindi abbiamo disbrigato queste situazioni il secondo anno abbiamo cominciato a mettere in campo delle opere e sinceramente un comune di 12.500 abitanti che investono in un anno quasi 5 milioni di euro in opere pubbliche che sono in parte terminate in parte in corso e in parte le stiamo appaltando e le appalteremo entro quest'anno potrei fare un elenco anche molto lungo sono quasi 5 milioni di investimento non c'è un altro comune di 12.000 abitanti che fa 5 milioni all'anno di investimenti in opere pubbliche non c'è non esiste e quindi comincio a essere abbastanza non sono mai soddisfatto abbastanza soddisfatto di come le cose si stanno mettendo adesso il prossimo anno sarà il terzo anno su quel bilancio dobbiamo cominciare anche ad uniformare una serie di attività che finora ancora sono diversificate secondo gli escomuni ci puoi fare un esempio? la raccolta differenziata ad esempio noi abbiamo una raccolta differenziata nell'escomune di Montemaggiore che è un porta a porta spinto che è anche abbastanza apprezzato dai cittadini e abbiamo all'escomune di Salongarina e di Saltare invece una prossimità e un parziale porta a porta l'umido e il secco vanno presi a domicilio mentre invece carta, vetro, plastica ci sono le isole ecologiche lì c'era anche una differenza tra calcinelle e tavernelle dove la carta si andava ancora a farla domiciliare quello l'abbiamo tolto e con quel risparmio abbiamo finanziato gli ispettori ambientali di Aset che girano il territorio a controllare che la differenziata sia fatta nel modo migliore e quant'altro ecco questa è una cosa che noi il prossimo anno vorremmo in collaborazione con Aset uniformare certo ci stanno predisponendo un piano su nostra richiesta e ce lo porteranno di fatto informamente ce l'hanno già portato ce lo presenteranno ufficialmente in queste ore in questi giorni se poi lo condivideremo anche con la cittadinanza e lo condivideremo come amministrazione dovrà andare in consiglio comunale l'Aset a quel punto dovrà organizzarsi non ci saranno le condizioni per partire dall'inizio dell'anno ma mettiamo che sia la tarda primavera o a metà del prossimo anno io sarei per scegliere sinceramente la raccolta porta a porta spinta su tutto il territorio poi le farò anche una domanda sul digestore per sapere il suo parere adesso le chiedo un attimo velocemente un botte risposta perché sono arrivati dei messaggi da parte dei suoi concittadini intanto le chiedono per non rimanere isolati dal mondo è previsto qualche accordo con team per portare la fibra nelle zone interne di tavernelle non mi dire il nome ti stavo per fare una domanda io non il nome perché non è quello da che zona chiamavati quindi tavernelle ecco no dopo ti dico anche perché l'ho chiesto perché c'è una grande lamentiera con il metauro negli ultimi settimane perché per mettere la fibra che siamo il primo comune nelle Marche che avrà la copertura completa della fibra grazie alla nostra amministrazione grazie alle conferenze di servizio che abbiamo fatto con Open Fiber per la realizzazione devo ringraziare anche il mio vice sindaco Andrea Giuliani che ha partecipato sempre a questi incontri ha portato a Colle al Metauro il primo comune nelle Marche completamente copertura da fibra super veloce ultra veloce come si chiama non sono neanche un grande intenditore e una grossa lamentela che si riscontra soprattutto Villanova Montemaggior ma anche Calcinelli è che per far passare la fibra stanno rovinando un sacco di strade allora per quello ti ho chiesto chi è che lo chiede perché non si è corta la fibra la stiamo portando allora abbiamo quasi completato Villanova Montemaggior so che c'è rimasto qualcosa San Liberio Montemaggior e Alta abbiamo completato quasi tutta Calcinelli e anche lì ci sono delle zone ancora da fare Tavernelle da dove chiama appunto questo cittadino quindi l'ex comunio di Serrungarina era fuori da questo accordo perché questi incontri sono iniziati quando ancora c'erano i tre ex comuni quindi si è fatto avanti prima Saltara e Montemaggiore e Serrungarina era in un altro blocco di altri comuni sarebbe tutto realizzato successivamente invece cosa abbiamo ottenuto noi con le conferenze di servizio alle quali abbiamo ripeto sempre partecipato e abbiamo anche nominato un nostro consulente all'interno di quel gruppo di lavoro per poter essere all'avanguardia infatti il primo comune che avrà la copertura completa di fibra sarà Coglio al Metauro in tutte le marche allora abbiamo completato Montemaggiore stiamo completando Calcinelli e Saltara il prossimo anno si farà anche Tavernelle Solongarina completamente perché perché abbiamo fatto capire che oggi siamo un comune unico e sarebbe stata una cosa del tutto fuori luogo averne una parte di comune con una copertura e una parte no e quindi Tavernelle Solongarina è stata inserita nel primo stralcio insieme a Montemaggiore insieme a Saltara quindi cioè in parte sono già realizzati ormai va a finire ovviamente il prossimo anno i primi mesi del prossimo anno ma anche Tavernelle Solongarina parlavamo prima di qualche polemica o critica sulle asfaltature infatti le chiedono come mai è stata asfaltata via Gambarelli dove si transita in modo prevalente a piedi e non è stata asfaltata invece via Giardino di fianco al bocciodromo di Calcinelli beh via Giardino effettivamente è messa molto 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 male è come dire è un po' una scelta che si è fatta nell'amministrazione nel senso che tutte le strade non si possono asfaltare tantomeno tutte lo stesso anno una parte di queste era particolarmente ammalorata come lo è purtroppo anche località Giardino che conosco bene è stata fatta la scelta di scegliere quella ai Gambarelli anche lì perché è una zona che vanno molto dopo sembra una contraddizione detta così però effettivamente è una zona dove vanno molto a passeggio anche a piedi eccetera è una zona un po' panoramica diciamo così non particolarmente abitata ma panoramica quindi al di là delle auto passano anche molto a piedi vanno proprio passeggiano persone che vengono anche da altre realtà anche da Lucrezia eccetera girano e abbiamo pensato di dare una risposta proprio a quel tipo di area e di strada se facevamo il giardino rimaneva fuori Gambarelli abbiamo fatto Gambarelli rimasto fuori giardino ecco ad esempio adesso mi dai un'idea che prima non avevo detto potrebbe anche essere non è una promessa però potrebbe anche essere che lo dica il giardino che effettivamente è davvero disastrata può essere inserita nel piano della stradatura il prossimo anno insieme a Via Gramsci in alcune zone di Villanova e alcune zone delle poste vecchie che ne hanno particolarmente bisogno bene della bruttura della rotatoria fatta di sassi l'ingresso di Tavernelle dalla superstrada invece Sennaco ne vogliamo parlare ne vogliamo parlare ne possiamo anche parlare ma non è che Aguzzi arriva e mette in discorso tutto quel che trova quella è una rotatoria allora intanto è una rotatoria che c'è lì da molti anni adesso non so da quanto mi ricordo da molti anni che sia lì e che comunque è funzionale e funziona nel senso è piccola è stretta anche perché gli spazi sono quelli non è uno spazio particolarmente ampio però è funzionale funziona funziona bene mi pare che non succedano incidenti mi pare che mette abbastanza in sicurezza la viabilità comunque in un punto molto critico lì arrivano tutte le auto che escono dalla superstrada a Tavernelle e poi vanno anche verso oltre che Tavernelle anche verso Montefelcino altre zone eccetera quindi c'è già quella rotatoria che poi sia piccola ristretta non è che ci si possono mettere chissà quali monumenti al centro veramente lì c'è un consigliere comunale che poi è di Tavernelle Alessandro Berloni che ha lanciato anche l'idea dicendo visto che si fa quella di via Carbonara e si è fatta che si farà quella di Calcinelli pensiamo magari a creare anche un elemento d'arrido che unisce questo territorio come dire Villanova Calcinelli e Tavernelle facciamo un unico arredo delle tre rotatorie quindi anche questa per richiamare Coglio al Metauro ad una unicità di visione può essere può essere una buona idea quindi potrebbe anche essere una buona idea per abbellire quella rotatoria non è che si potrà cambiare chissà cosa lo spazio è quello se la rotatoria la vogliamo lasciare rimane così come ampiezza e come funzionalità però funziona se vogliamo abbellirla un po' ci può anche stare a Natale ci facciamo l'albero di Natale in mezzo ma dobbiamo dire che è un palo con i fili cadenti non è un proprio albero si fa come si dice meglio che si può in questi casi Sindaco abbiamo ancora tante cose di cui discutere anche da riferire ai nostri telespettatori o ancora messaggi per lei ma ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità siamo tornati in diretta con il Sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi vi ricordo che potete intervenire digitando i numeri che vedete in sovraimpressione Sindaco continuiamo a parlare anche di lavori passiamo ai cimiteri perché qui possiamo toccare un po' tutti partiamo dal cimitero di Montemaggiore notizie positive nel senso che il cimitero di Montemaggiore ci sono attualmente i lavori in corso per un ampliamento funzionale per 120 mi pare nuovi loculi i lavori sono a buon punto la ditta sta andando avanti molto celermente ho già visto tirato su anche il muro di cinta deduco che finiranno nel giro di poche settimane e quindi sarà un cimitero ampliato che avrà spazi spero meno utilizzati possibile ma avrà spazi per i prossimi anni con molta tranquillità ed era un cimitero che io ho trovato in grande sofferenza perché comunque erano tutti esauriti già i loculi da quando io mi sono insediato due anni fa quindi sono un lavoro in corso per 200.000 euro passiamo invece ai lavori che riguardano il cimitero di Saltara di Saltara c'è una gara d'appalto che partirà entro 10-15 giorni al massimo anche lì sono 130 nuovi loculi che verranno costruiti il prossimo anno e la gara d'appalto partirà ripeto entro quest'anno quindi i lavori andranno a finire la prossima primavera e lì ci sarà anche l'automatizzazione di un cancello che ho spesso delle lamentele lì c'è la parte nuova e la parte vecchia la parte nuova e il cancello automatico la parte vecchia invece ha un cancello che nessuno apre più e chiude più quindi è sempre chiuso ed è collegato internamente ad un ascensore dopo la gente ha paura di prendere l'ascensore perché dice rimango chiuso dentro l'ascensore dentro il cimitero non è il massimo e quindi c'è questo tipo di alimentare adesso per le festività di morte dei santi l'abbiamo aperto tenuto aperto dai nostri operai per il resto non riusciamo a metterne lì una persona aprire e chiudere però all'interno di questo appalto ci sarà anche l'automatizzazione di quel cancello quindi sarà una miglioria proprio anche di servizio per l'utenza e per le persone che vanno a trovare i propri cari e quant'altro quindi sarà l'ampliamento anche del cimitero di Saltara il prossimo anno invece in quello di storia ungarina quale tipo di intervento è previsto? Lavori in corso anche in quel caso c'è già stato il lavoro in corso sono in atto in questo momento c'è stata fatta lo scavo e la gettata di cemento proprio visionato ieri perché abbiamo fatto la messa lì ieri eccolo qua c'è la foto quel basamento è stato lasciato lì perché deve essere lasciato lì per circa 30 giorni prima di tirar su e sopra tutto il resto del lavoro sarà un lavoro che terminerà entro quest'anno e anche qui sono 100 mi pare 16 nuovi loculi ed era anche questo un intervento che era atteso da molti anni quindi tutti e tre i cimiteri di Collio del Metaro sono due in fase di ampliamento attuale uno sarà ampliato il prossimo anno tutti quanti per questo cominciare a essere un po' soddisfatto stiamo cominciando a fare le cose andiamo avanti a leggere anche qualche altro vostro messaggio credo che ci scriva un fanese sindaco volevo esprimere la mia rabbia ci scrive per il suo operato ha portato i fanghi prelevati dal porto a Ponte Sasso a Torrette a Torrette lui ci scrive Ponte Sasso doveva essere una cosa provvisoria invece sono passati parecchi anni e i fanghi sono ancora provvisoriamente lui riscrive a Ponte Sasso dovremmo avvisare l'arpa perché è diventata una discarica la conosco talmente bene perché è stato l'unico intervento in tutte le marche di questo tipo perché c'era il porto di Fano a suo tempo completamente chiuso ed era impossibilitato entrare e uscire ai pescarecci tant'è che toccavano sotto ed era anche molto pericoloso non c'era modo di portarli in alcun altro posto perché non si parlava di cassi di colmati in Ancona che non credo che non siano ancora realizzate neanche oggi non si potevano portare in mare non c'erano più spazi all'interno del porto per depositarli e noi con molto coraggio e anche lungimiranzi in accordo con la regione riuscimmo ad imbastire una cassa di colmata su un terreno di proprietà comunale che doveva avere una finalità industriale tant'è che sul piano regolatore tale è quel terreno dove noi abbiamo potuto stoccare temporaneamente ovviamente dei fang con un certo quantitativo di fanghi quindi in quella fase abbiamo garantito l'accessibilità e la sicurezza al porto di Fano abbiamo portato avanti in accordo con la regione con l'Asur l'ARPAM un intervento unico e coraggioso come amministrazione mai avvenuto prima li abbiamo depositati al centro di un'area che è a Torrette di Fano dove doveva nascere Fantasy World per capire che ovviamente è una zona si abitata ma non è che abbiamo messo i fanghi vicino alle case sono a centinaia di metri dalle case più vicine ovviamente sono messi in sicurezza con i teli sotto con i teli sopra in modo che ci sono ne sversamenti sempre monitorati dall'ARPAM sempre diciamo così visitabili e dovevano rimanere lì il tempo necessario se pensava tendenzialmente un paio d'anni il tempo necessario perché poi dovevano essere trasferite la cassa in un luogo all'interno del porto di Ancuno a cassa di colmate come sfuggivo al termine ecco a suo tempo i cittadini del territorio erano molto preoccupati mi ricordo una mattina fecero una un'assemblea nella sala della parrocchia Torrette alla quale io ovviamente partecipai coraggiosamente è stata molto drammatica quella fase io alla fine di quell'intervento invitai tutti quanti ad andare al porto di Fano a visionare i fanghi e li portai tutti con me alla fine dell'assemblea all'interno del porto di Fano dove già c'erano dei fanghi depositati e quando siamo arrivati lì gli ho detto ecco questi sono i fanghi depositati hanno guardato dice beh ma mica puzzano no infatti non puzzano ma non puzzano neanche le di Torrette non danno fastidio non puzzano e sono depositati all'interno di un'area comunale qual è la cosa e quindi do atto a questo cittadino di essere arrabbiato do quel che vuole questa è esattamente la situazione quindi un'azione coraggiosa per garantire la funzionalità la sicurezza del porto di Fano altrimenti sarebbe rimasto chiuso qual è la cosa che però voglio dire a suo tempo mi ricordo erano il 2012 mi pare io ero il sindaco secondo la legislatura dovevano essere rimossi nel giro di un paio d'anni mi ricordo la contestazione brutale dalla mia opposizione dal partito democratico che me ne disse di tutti i colori in consiglio comunale c'erano poi due consiglieri comunali che erano anche lì proprio del posto della zona di Ponte Sasso me ne dissero di tutti i colori sono passati sei anni c'è stata l'amministrazione di sinistra dopo gli hanno rimossi i fanghi e sono ancora lì no visto che sono bravi un bel po' io sono stato bravo a portarceli liberando il porto di Fano dopo due anni dovevano andare via dopo due anni non ero già più sindaco non sono passati sei ma i fanghi sono ancora lì e chi allora mi contestava dicendo che non dovevo metterli lì non li ha ancora portati via quindi ha ragione che questo cittadino è essere arrabbiato con Aguzzi perché ce li ha portati si arrabbia anche con qualcun altro perché non li ha ancora portati via Sindaco abbiamo una telefonata per lei vorrei segnalarle intanto l'illuminazione in via San Martino a Saltara in direzione di Bali poi l'asfaltatura a Borgaccio per la precisione traversa di via Sacca e ancora la strada che va da Borghetto verso la provinciale la parte bassa di via Sacca l'ha rifatta adesso quella vicina al depuratore l'ha rifatta adesso a Marche Multiservizi evidentemente non è arrivata a Borgaccio dove dice questo cittadino sicuramente quindi ne prendo atto non c'è un progetto in corso mentre invece su via Carbonara abbiamo già pensato di inserire nelle prossime piane qual'era l'altra cosa? l'illuminazione via San Martino in direzione del Bali sinceramente serve perché lì quando sono dell'iniziativa al Bali mi è capitato anche a me di scendere di notte effettivamente è completamente buio quindi alcuni punti luce potrebbero essere inseriti in un prossimo piano di intervento non è che andiamo a mettere un lampione alla volta facciamo una gara d'appalto su alcune vie e magari cercheremo di metterci anche questa sentiamo che c'è in linea buonasera buonasera prego signora io chiamo da Saltare il sito che mi conosce bene sì non so chi è io volevo fare un appunto è circa mezz'ora o più che Silberto parla dei problemi delle opere fatte nel comune di Colli mai nominata Saltara ora io non voglio fare un discorso cantunilistico però vorrei chiedere no a che punto se hanno preso in considerazione quella che è la viabilità di Saltara in particolar modo la corciatoia che fa Cartoceto Saltara via del santuario via della villa la piazza i parcheggi via Roma e altro poi la chiesa della villa è mai possibile che si debba vedere ancora dopo tre anni quella vergogna di sporcizia dove ci sono topi morti un cipresso che doveva essere votato e che nessuno ha dato ascolto c'è una recensione e si è salvato così diciamo è salvato dicendo che c'è pericolo non superare la rete e non si vede nulla allora io dico io dico ma è mai possibile lei sindaco dietro ha le foto di Saltara dietro la sua immagine ha solo le foto però di Saltara perché ci sono una serie di situazioni insostenibili e quindi che sono da sistemare però adesso ne voglio la strada che taglia dietro il castello venuto da Cartoceto è in uno stato pietoso partiamo dall'inizio intanto la ringraziamo per la segnalazione dunque quindi parliamo di le strade spiego io questa cosa spiego io perché la signora che adesso non dico il nome anche perché non c'è di male però come privacy conosco molto bene è una persona che stimo oltretutto ed ero anche particolarmente amico del suo povero marito che era una carissima persona molto conosciuta a Saltara e molto stimata che apprezzo molto quindi mi fa anche piacere che abbia fatto questa telefonata ma le ha dette in molte occasioni le stesse cose sia al telefono che personalmente che su Facebook si riferisce in particolar modo alla chiesa della Villa che è una chiesa storica molto di valore a Saltara di proprietà comunale che di fatto è in uno stato tra virgolette di abbandono da molti anni nel senso che è una chiesa inagibile e la cosa che la signora credo giustamente mette in evidenza che all'interno di fatto della recinzione del muro di cinta di questa chiesa nel tempo è cresciuto ma nel tempo come dire nei decenni un grosso cipresso che è diventato enorme che di fatto copre il campanile cioè tu arrivando non vedi il campanile perché c'è il cipresso davanti in modo che questo grosso cipresso rischia adesso spero che non sia così però rischia magari di minare alla base anche le basamente della chiesa con le radici eccetera però il cipresso non si può abbattere vediamo ne parlavo proprio col vice sindaco Andrea Giuliani che ha di saltare i giorni scorsi proprio su sollecitazione della signora dico almeno magari una potarlo vedere un po' come si può contenere diciamo questa espansione erborea all'interno di questa chiesa che effettivamente lo stesso Andrea Giuliani mi diceva che si potrebbe pensare intanto di realizzare un progetto di massima per la ristrutturazione alla messa in sicurezza di questa chiesa sulla quale magari poi chiedere anche qualche fondo europeo qualche intervento perché non è se il comune poi ha milioni di euro per intervenire in questo senso purtroppo quindi la signora ha perfettamente ragione quando parla della chiesa della villa è una situazione che è lì da molti anni e che non è stata indubbiamente affrontata neanche da questa amministrazione per il momento poi la strada che pone in questione la signora è la strada dove la signora abita oltretutto che è la traversa che la corciatoia lei la chiama infatti che davanti alla chiesa del gonfalone dentro Saltara va verso Cartoceto dove è passato il giro di taglia per capirci oltretutto su quella strada ci abita anche il nostro responsabile dei lavori pubblici dovrebbe anche allora la strada non è messa male dal punto di vista dell'asfaltatura tant'è che c'è passato anche il terreno adriatico eccetera e non c'è stato bisogno neanche di tappare le buche nel senso che hanno visionato è una strada abbastanza stretta è una strada abbastanza pericolosa perché la usano molti proprio come scorciatoia venendo da Cartoceto ci sono diverse curve poca visibilità effettivamente sì non è il massimo non è che si potrà fare chissà cosa se no magari una miglior manutenzione per quel che guarda le erbacce ai lati magari cose di questo genere questo indubbiamente probabilmente sulla piazza la signora si lamenta spesso come alcuni altri cittadini che c'è un po' di parcheggio selvaggio davanti ai negozi davanti ai luoghi diciamo che la piazza di Saltara per quanto è ampia non è che ha tutti gli spazi necessari per i parcheggi se ci mettiamo a delimitarli poi si lamenta qualche commerciante perché non riescono più a avere i loro clienti che parcheggiano lì però un piano di sistemazione di quella piazza effettivamente può servire ne ho già parlato con l'ufficio tecnico questo non vuol dire che abbiamo un progetto in mano però ne ho già parlato un attimo per presa visione poi una cosa che la signora mi ha detto non in questo momento ma in altra sede ma lo voglio dire qui perché non c'è niente di male diceva lei si è completamente scordato di Saltara a me allora io adesso faccio questo esempio prendendo atto delle problematiche che la signora suggerisce che sono tutte giuste e lo fa seriamente non lo fa strumentalmente lo so perché la conosco però io sono arrivato a Saltara c'era una scuola chiusa e abbandonata sono arrivato a Saltara c'era una via al centro di Saltara via Guccioni che era chiusa perché c'era stato un crollo della sede stradale su una grotta sottostante c'era la caserma dei Carabinieri che era quasi in procinto di spostarsi perché c'era un muro di cinta che stava venendo giù di proprietà del comune c'era un banco ma che è saltato perché c'è stata una rapina e la banca non era intenzionata a ripristinarlo c'era un servizio di pulmini fortemente a rischio perché tutti i giorni gli autisti dicevano noi abbandoniamo tutto lasciammo i ragazzi a piedi perché non è più possibile la ditta non ci paga eccetera eccetera allora i pulmini risolti il problema perché abbiamo cambiato la ditta che c'è adesso funziona benissimo il servizio di pulmini funziona benissimo anche a Saltara proprio fanno tappa lì gli stessi autisti mi dicono tutto ok il sindaco tutto bene questo mi fa molto piacere sulla caserma dei Carabinieri ci sono i lavori in corso in questo momento la grotta di Vio Guccioni è stata appena risolta e riaperta dieci giorni fa sulla scuola Dezzi abbiamo ottenuto 980 mila euro dal ministero ci sono i lavori in corso e il prossimo anno la riapriremo la scuola elementare riportandola su da Calcinelli settembre 2020 settembre 2020 sono i lavori in corso in questo momento cioè questi quattro problemi di Saltara li abbiamo affrontati tutti e quattro e li stiamo risolvendo tutti e quattro quindi non mi sono affatto scuolato di Saltara dove oltretutto sede io come sindaco vado quasi sempre a Saltara il mattino questa è la scuola Dezzi alle mie spalle vedete il progetto di quando sarà finito i lavori sono in corso in questo momento sul Bancomat siamo in trattativa con la banca abbiamo ottenuto il benestare della Bancomat della banca per ripristinare il Bancomat finalmente e dicono che lo ripristineranno abbiamo individuato la sede perché serve una sede di proprietà per poterlo inserire perché abbiamo chiesto anche a privati se c'era qualcuno disponibile e non abbiamo trovato disponibilità a Saltara per inserire il Bancomat l'unica proprietà che è pubblica ed è posta sulla piazza in punto accessibile e visibile adatto all'installazione del Bancomat è l'attuale sede della Proloco dopo qualche disguido con la stessa Proloco che avrebbe dovuto mettere a disposizione parte di questi locali ha consentito quindi noi in questo momento stiamo redigendo un progetto per dividere a metà la stanza della Proloco e realizzare il Bancomat ci costerà 18 mila euro mi diceva l'ufficio tecnico i giorni scorsi tant'è che qualcuno metteva anche in discussione ma è legittimo che un comune spenda 18 mila euro di soldi suoi per far mettere un Bancomat a una banca spero che sia legittimo perché abbiamo intenzione di farlo perché? perché non è facciamo un favore alla banca diamo un servizio e cittadini di saltare quindi ci sentiamo di fare questo tipo di intervento che sarà portato avanti prossimamente hanno chiamato sindaco anche per segnalare al cimitero di Montemaggiore che ci sono dei rovi che arrivano in mezzo alla strada andiamo avanti però anche con i progetti taglieremo i rovi parliamo ad esempio dello svincolo in via Laghi a Calcinelli questa è una vicenda vedete se io siamo quasi a metallizzatura ancora non siamo a metallizzatura ma manca poco siamo quasi a metallizzatura se io entro questa legislatura quando dico io dico la mia amministrazione non io come persona riusciremo a risolvere questo tipo di problemi io sarei il sindaco più felice del mondo probabilmente perché è un problema molto serio cioè la viabilità a Calcinelli è fortemente stressata dall'uscita della superstrada che intasa completamente il centro di Calcinelli il semaforo che è un incrocio molto ristretto e lì escono persone che poi vanno anche verso Monbaroccio vanno anche verso altre zone quindi è molto trafficato e oltretutto lì escono tutti i camion tir che poi vanno nella zona industriale di via Laghi e quindi escono dalla superstrada fanno il semaforo di Calcinelli scendono per via Roma vanno in via Laghi fanno quel che devono fare ritornano indietro rientasano un'altra volta il semaforo la viabilità eccetera eccetera è molto problematica lì la la loro amministrazione Cicoli sempre Cicoli lo cito più volte stasera e se lo merita credo riuscì ad avere dall'ANAS la previsione di una nuova uscita proprio in prossimità del tono industriale di via Laghi e questa è una cosa sinceramente molto strana perché è a un chilometro dall'attuale uscita di Calcinelli come dire l'ANAS autorizza un nuovo svincolo vicino a un altro svincolo ed è molto strana questa cosa a metà strada tra Lucrezia e Calcinelli però qual è il problema che questo svincolo l'ANAS lo ha tra virgolette autorizzato però l'ANAS dice io però non ci metto una lira nel senso io vi dico si può fare però lo realizza il comune o chi meglio crede allora qual è l'accordo fatto a suo tempo quando l'ANAS disse di sì che lo svincolo è previsto ed è quello che vediamo qui alle mie spalle inquadrato eccetera sulla carta previsto è uno svincolo che costa più di 4 milioni di euro ed è completamente a carico dei lottizzanti di quell'area industriale cioè chi si insedia lì con nuove attività industriali deve anche sborsare soldi per realizzare il casello qual è il risultato? che non si insediano più le imprese e quindi non si farà mai l'uscita il casello e lo svincolo allora io che abito a Bellocchi e che per andare a Calcinelli faccio più o meno tutte le mattine alla superstrada quando sono in quella zona ci guardo sempre via laghi le fabbriche lungo la strada e poi questo grande campo che è una previsione di lottizzazione ma non ci sono ancora i capannoni dove deve venire anche questo svincolo e dico sempre ma guarda te quanto sarebbe comodo questo svincolo qui sulla destra poi guardo la parte sinistra lato fiume c'è un dislivello di 10 metri dico ma lì quanto riesci a fare un ponte sopra tutta la rotatoria dall'altra parte con quel dislivello ma non lo farà mai nessuno è una cosa che rimarrà al libro dei sogni e allora ho pensato ma perché non si pensa di fare il mini svincolo chiamiamolo così cioè un intervento parziale un intervento solo in uscita lato destro e rientro nella superstrada senza più pensare di fare quell'opera faraonica da 4 milioni che nessuno mai farà cioè si viene su da diciamo Fano verso Fossombrone prima dell'uscita di Calcinelli quando sei in via laghi si può benissimo realizzare uno svincolo e già di fatto anche solo realizzandolo in uscita tu togli il 50% di traffico dal semaforo di Calcinelli dall'uscita dell'attuale di Calcinelli anche perché fosse solo in uscita e in più fai arrivare tutti i camion ma anche i lavoratori della zona industriale di via laghi direttamente all'interno della zona diciamo così industriale venendo dalla superstrada poi si può anche prevedere il ritorno in superstrada solo verso Fossombrone anche perché poi a quel punto si esce a Calcinelli come fanno del resto adesso ma senza andare dentro il paese oltretutto ci sarà lì la nuova rotatoria all'uscita girano riprendono la superstrada e tornano verso Fano come dire invece di fare l'intero svincolo che costa 4 milioni su entrambi i lati si fa solo su un lato con 7-800 mila euro si fa e quindi diventa molto credibile e realizzabile anche per chi vuole insediarsi lì con le imprese quindi si creerebbe nuova impresa nuove attività nuovi insediamenti e il nuovo svincolo io credo che se noi riuscissimo a fare questa cosa sarebbe un capolavoro io sono già stato all'ANAS oltretutto anche molto ben accolto mi fa molto piacere ho trovato anche delle persone che conoscevo non mi ricordavo che lavorassero lì che sono di Fano oltretutto ho chiesto anche di cambiare le scritte all'uscita della superstrada di Calcinelli che lo hanno fatto hanno scritto Coglie al Metauro al posto di Saltara ci sta così almeno si vede si conosce il nuovo comune anche nelle strade di lunga percorrenza e ci hanno detto un sì di massima gli abbiamo già inviato diciamo la nostra proposta su carta a questo punto ci hanno detto il sì di massima c'è però per dirvi un sì definitivo bisogna che voi ci fate un progetto definitivo di fatto e poi noi lo inviamo anche a ANAS a livello nazionale per avere il bene placido in questo momento io proprio parlavo anche stamattina ma ci parlo spesso con dei professionisti del territorio insomma che operano su quella parte del territorio che hanno tra virgolette interessi su quell'area di loro clienti di loro persone che vorrebbero lì insediarsi e gli ho detto faremo presto una riunione con tutti i proprietari di quelle aree che sono di espansione o chi ne cura gli interessi tra virgolette quindi dei professionisti geometri architetti eccetera li mettiamo tutti insieme e gli diciamo occorre che voi facciate il progetto definitivo di quello svincolo perché non lo fa il comune lo fa il privato visto che in convenzione c'è scritto questo se noi facciamo quel tipo di progetto e lo inviamo all'ANAS poi ci riparliamo se ci dicono di sé noi portiamo a casa una variante e di fatto le imprese si potranno insediare realizzando quel svincolo con una spesa molto minore ma ottenendo un effetto molto positivo per la viabilità di tutta Calcinella e di tutta la zona industriale Sindaco le chiedo davvero un botte risposta Via dei Laghi verrà sistemata? Via dei Laghi se tutto va bene parte l'asfaltatura entro novembre adesso se piove continua a piovere va a finire la prossima primavera la detta è già stata gli sono stati già assegnati i lavori è già venuto a fare i sopralluoghi parte da Via del Progresso nella zona industriale di Calcinelli quell'altra per poi proseguire su Via Laghi marciapiedi lungo Via Ponte Metauro marciapiedi su Via Ponte Metauro allora si potrebbe pensare non è che si potrebbe pensare noi quando dicevo prima che sistemeremo nella rotatoria la strada da Calcinelli dal semafo fino al sottopasso della superstrada prevediamo lì anche una sistemazione di marciapiedi e anche un passaggio protetto sotto il sottopasso della superstrada quindi allargare spostare il guardrail per permettere al pedone di passare in sicurezza tra il guardrail e il muro del sottopasso poi pensiamo anche di realizzare dei marciapiedi da Villanova a scendere verso la rotatore di Via Carbonara che abbiamo appena realizzato in modo che da Villanova si può andare direttamente a piedi anche fino a Via Carbonara fino verso il Ponte Metauro ed abbiamo in progetto il marciapiede ho fatto già un soprallogo anche con la provincia che ci deve autorizzare ma ha detto che ci autorizzerà da Borgaccio fino al Flaminio Tavernelle per continuare con i marciapiedi che da Tavernelle scendono verso il Flaminio e continuare fino a Borgaccio questi sono dei marciapiedi pedonali che noi prevediamo in queste parti del territorio già il prossimo anno abbiamo già assegnato a bilancio 500 mila euro di intervento su queste opere vorrei sapere quando verrà inaugurata la palestra di Villanova la palestra di Villanova verrà inaugurata appena arrivano gli arredi siamo un pochino in ritardo sugli arredi devo dire la verità nel senso che siamo stati molto veloci nella realizzazione abbiamo lavorato molto sulla variante che ci mettesse in condizione di avere un parcheggio di fianco che andremo a sistemare già nei prossimi giorni prima dell'inaugurazione quindi creeremo anche 60 nuovi parcheggi di fianco alla palestra e tra una roba e l'altra sono rimasti siamo rimasti non dico sono rimasti siamo rimasti un pochino indietro sull'ordinare gli arredi interni non c'erano i soldi abbiamo dovuto fare degli storni di fondi da un capitolo all'altro sono state ordinate devono arrivare delle tribune i cesti da pallacanestro la rita pallavolo o non so bene cos'altro osserva all'interno devono arrivare appena arrivano andiamo a inaugurarla quando saranno terminati i lavori al teatro di Monte Maggiore dato che ci scrivono mi era stato detto dal vice sindaco Giuliani che sarebbero iniziati a fine agosto di che anno? non di quest'anno non voglio smentire Giuliani perché Giuliani da brava persona che è ci crede molto ed è molto convinto di volerli fare è dall'anno scorso come lui è l'assessore della cultura e quello è un teatro piccolino però veramente bellino è anche abbastanza utilizzato dove noi vorremmo creare all'interno le scene la scenografia insomma in modo che possa diventare un teatro vero e proprio serve qualche decina di migliaia di euro che sinceramente abbiamo messo a bilancio quest'anno ma poi non abbiamo proprio non siamo riusciti ad ottenere la somma reale per poterli spendere quindi non credo che si riuscirà a farli quest'anno però credo che sul prossimo anno non dovrebbero esserci problemi mentre invece visto che parliamo di Andrea Giuliani ci tiene molto sono partiti i lavori visto che parliamo di Saltara prima è sfuggito per la signora che ha chiamato sono partiti i lavori di restauro alla chiesa del Gonfalone dei mosaici romani quindi finiti i lavori ci vorranno poche settimane di sistemazione artistica di quelle opere poi sarà installata lì una sala apposita anche con dei video una cosa abbastanza bella moderna che poi inaugureremo sarà quella indubbiamente fonte di grande interesse anche turistico e scientifico di visita a Saltara a Lugli e lavori di consolidamento della scuola primaria Ciavarini della municipalità di Montemaggiore sono stati appaltati allora sì noi abbiamo fatto questo anche in questi due anni abbiamo fatto la verifica sismica in tutte le scuole di Colla e Metauro tutte quante ovviamente solo una è antisismica detto brutalmente ma dai non lo dico scherzando ma lo sappiamo benissimo che le scuole di un tempo non hanno le caratteristiche di antisismicità che avrebbero scuole costruite oggi quindi noi abbiamo fatto la verifica perché? perché volevamo capire adesso a parte le battute che non erano antisismiche lo sapevamo tranne una nuova di tavernelle che è stata realizzata pochi anni fa con il sistema antisismico e quella quindi lo è l'unica le altre sapevamo benissimo che non erano antisismiche perché realizzate 40, 50 o 60 anni fa non avevano quelle caratteristiche però volevamo vedere se avevano le caratteristiche di sicurezza non che magari avessero problemi con quella di Fano o di Urbino che hanno dovuto chiudere ultimamente perché erano pericolose ecco qui non sono antisismiche bisogna essere onesti ma tutte hanno i regolari diciamo così requisiti di sicurezza per di staticità è chiaro che poi c'è quella che è messa meglio e guarda caso sono quelle più vecchie e ci sono quelle messe meno bene e tra queste c'è proprio la Lugli che è una delle più nuove messa meno bene non vuol dire messa male meno bene allora siccome quelle messe meno bene sono la Ciavarini di Montemaggiore e la Lugli di Calcinelli che hanno le caratteristiche di sicurezza capiamoci non sto spaventando nessuno però hanno delle caratteristiche diciamo meno positive di altre su quella di Montemaggiore abbiamo già investito 360.000 euro e c'è in corso la gara d'appalto adesso quindi entro quest'anno si ospetterà la gara d'appalto entro quest'anno verranno segnati i lavori per non perdere il finanziamento e il prossimo anno verranno realizzati i lavori probabilmente saranno lavori che si faranno durante l'estate quando la squadra sarà chiusa ed è la messa in sicurezza di tutto il piano terra con l'ingabbiatura di tutti i muri in modo da renderla assolutamente più sicura la Lugli abbiamo invece chiesto adesso un finanziamento alla Regione Marche per la progettazione e la messa in sicurezza complessiva la Lugli sarà molto più complicata perché è fatta chi è di Calcinelli lo sa è fatta in maniera molto a zigogolata non è un unico blocco sono stati vari blocchi che nel tempo sono cresciuti l'un l'altro anche adesso sono dei lavori in corso per un ulteriore ampliamento della Lugli attualmente è quasi finito e quindi una messa in sicurezza di quella scuola quando sarà il momento quando avremo avuto come spero il finanziamento necessario eccetera sarà un lavoro abbastanza importanti e sarà un problema poi ricollocare anche gli studenti per quell'anno che dovremo portare avanti i lavori comunque ripeto non voglio creare assolutamente alcun allarmismo noi abbiamo fatto uno dei pochi comuni che l'ha fatto su tutte le scuole la verifica di staticità su tutti i plessi scolastici sono tutti tra virgolette sicuri pur essendo molto obsoleti anche le scuole stesse su quelle che hanno i requisiti meno positivi stiamo intervenendo la prima è la Ciavarini prossima settimana ci sarà anche l'inaugurazione di una rampa per disabili giusto? questa o la prossima neanche mi ricordo comunque sì abbiamo realizzato una rampa per disabili in via Gobetti nella scuola materna Rodare che aveva questa necessità perché intanto ovviamente non l'aveva e dovrebbero tutte le scuole averlo poi lì c'è anche una parte di utenza che ha questa esigenza e conseguentemente abbiamo realizzato questa rampa e sì andremo a inaugurarla ma è già funzionante comunque questa domanda gliela avrei fatta io a fine puntata circa e gliela avevo già anticipato prima ma c'è un cittadino direttamente che gliela pone sindaco sono un cittadino di Falcineto le chiedo che cosa ne pensa del digestore che Aset realizzerà a Falcineto forse a poca distanza dal potabilizzatore del torno lo salgo benissimo che a Fano c'è questa discussione anche a poca distanza da casa mia sinceramente allora penso che non sia un gran biglietto da visita per questa città per la città di Fano e per la nostra vallata in generale allora per essere seri perché qui non voglio assolutamente fare demogosia è un impianto che serve serve per lo smaltimento dei rifiuti serve perché comunque oggi Aset ma anche altre aziende come Marche Multiservizi devono portare i rifiuti organici in luoghi molto lontani mi pare che li portino a Ravenna per essere trattati in impianti simili a quello che dovrebbe eventualmente nascere qui quindi con costi aggiuntivi scomodità eccetera non nascondo perché è realtà che ci si pensava già da quando io ero sindaco a Fano ad un impianto di questo genere però onestamente devo dire che all'epoca si era pensato era Aset Holding mi ricordo ancora c'erano le due Aset all'epoca non c'era stata la fusione Aset Holding si era fatta carico del progetto che era stato di massima già realizzato era un progetto che prevedeva un digestore anaerobico per i rifiuti di Fano e del circondario di Fano cioè quelli diciamo così seguiti da Aset compreso Colli e Metauro quindi e doveva essere realizzato all'interno della discarica di Montescantello cioè là dove già c'è la discarica perché era un digestore piccolo solo per ripetere i rifiuti nostri e quindi ci stava in una proprietà comunale proprio di fianco all'attuale discarica oggi si pensa una cosa completamente diversa oggi si pensa un digestore anaerobico molto più grande di quello che avrà una potenzialità di gestire i rifiuti di tutta la nostra provincia ma credo anche della provincia di Ancona e dicevo prima pur essendo un impianto che onestamente io l'ho anche visitato un impianto di quel genere non credo che porti chissà quale problemi di inquinamento non ha scarichi di acque non ha scarichi di fumi non credo che abbia un tanto un problema di inquinamento ma è chiaro che non è un ciclamino quindi è intanto un robo di 13 metri di altezza 400 metri di lunghezza molto impattante soprattutto se lo posizioni in mezzo alla campagna come qualcuno aveva pensato eccetera lo vedi da lungo la superstrada la vallata del metallo diventa la vallata del digestore questo non è sinceramente il massimo per una vallata che vuole caratterizzarsi per le bellezze ambientali la salubrità del territorio abbiamo fatto le barricate mi ricordo contro la centrale di Schieppe quando io ero sindaco a Fano eccetera eccetera ecco non è il massimo portare un'attività di quel genere nel mezzo della nostra vallata poi lo vogliono fare a facendo lo vogliono fare a bell'occhio secondo me starebbe meglio qualora doveva essere fatto di fianco o in mezzo a una zona industriale cioè un capannone tra i capannoni perché un capannone in mezzo alla campagna sarebbe proprio un pugno in un occhio ma comunque sia poi qual è un'altra questione che pongo un digestore che prende rifiuti da tutta la provincia o anche da altre province vedrebbe un traffico non andare e vieni continuo di camion carichi di roba roba che non è roba che profuma insomma parliamo di organico quindi parliamo di roba che puzza e c'è anche un'altra preoccupazione mia questa più politica se vogliamo meno pratica Aset dice serve ed è vero che serve perché comunque noi spendiamo molto per portare in Romagna e allora qualcuno dice ah beh allora facciamolo che noi dopo facciamo pagare di meno la bolletta non vendiamo fumo se no facciamo come colla al metauro quando qualcuno diceva facciamo la fusione che dopo pagheremo di meno che non è vero ecco in questo caso non sarà vero perché anche se risparmieremo nel non portarli più a Ravenna è vero che avremmo fatto un mutuo da 30 milioni di euro per realizzarlo il mutuo tocca pagarlo quindi alla fine non è che c'è un risparmio c'è un'opportunità per smaltire i rifiuti è un altro discorso di conseguenza io temo molto che un impianto di quel genere non più fatto da Aset in autonomia ma fatto insieme a Marche Multiservizi che costa 30 milioni di euro temo che possa nel tempo mettere anche in difficoltà economicamente Aset e magari potrebbe essere successivamente fagocitata da Marche Multiservizi che essendo più grande può coprire meglio quella spesa e magari Aset dovesse semmai trovarsi in difficoltà potrebbe in quel caso fare scambio di azioni vendite eccetera e potrebbe finire nelle mani di Marche Multiservizi questa è sinceramente una preoccupazione politica forte che io ho su questa progettualità insieme a Marche Multiservizi la temo molto e comunque l'impatto visivo tra virgolette ambientale ma di principio proprio che l'imboccatura della Vallata del Metauro dove noi qui a Colle del Metauro parliamo di borghi della qualità qualità ambientale territori panorami le bellezze artistiche monumentali ambientali nel mezzo della Vallata c'è questo robo ripeto che è di un certo impatto indubbiamente non passerebbe inosservato diciamo che non è il massimo non è una cosa di cui andare particolarmente fieri è indubbiamente un'esigenza che comunque c'è su questa realtà nelle marche non c'è un impianto di questione tutte le aziende devono portare fuori i rifiuti con spese molto alte secondo me è un errore un digestore così grande fatto insieme ad altre aziende come Marche Multiservizi era molto meglio mantenere un digestore più piccolo anche se magari meno economico solo per il rifiuto di questo territorio abbiamo tre minuti sindaco due domande veloci i lavori appaltati per la tribuna e poi la tassazione visto che deve essere anche più significato quella di Tavernelle parliamo abbiamo appaltato i lavori questa settimana non so se sono partiti i lavori non credo sinceramente ancora ma dovrebbero partire questione di giorni e l'altro invece che riguarda la tassazione visto che anche questa non deve essere una piccata questo discorso è un po' complicato quando io dicevo il terzo anno sarà il momento di andare a uniformare le cose importanti prima abbiamo parlato di raccolta differenziata da adesso dovremo parlare anche di IMU e non sarà piacevole per tutti cari cittadini di Coglio al Metauro non sarà piacevole per tutti perché c'è l'obbligo e questo a fusione fatta è un obbligo non è che lo decide il sindaco è un obbligo entro quattro anni dalla fusione le tariffe di IMU devono essere uniformi in tutto il territorio oggi noi abbiamo tariffe molto diverse tra l'ex municipalità di Saltara quella di Sarongarina e quella di Montemaggiore dobbiamo crearne una unica qui le promesse sono state molte durante la campagna referendaria sia no la fusione eccetera dopo pagheremo tutti i meno non è così cosa succederà allora cosa potrebbe succedere oggi noi abbiamo l'ex municipalità di Saltara che ha il massimo al 10,6 il massimo che la legge prevede quella di Montemaggiore ha una tariffa abbastanza bassa che è il 9,1 che si posiziona mediamente quella di Sarongarina è bassissima forse uno dei comuni che ce l'aveva più ce l'ha tuttora e ce l'aveva più bassa 8,6 che sinceramente è molto fuori luogo se un comune ha solo l'8,6 di IMU poi non ha neanche un soldo da mettere nella manutenzione nelle cose non so come facevano però quella è una partita adesso non mi interessa più il punto qual è noi dovremmo creare una tariffa unica allora come dire portarla tutta al massimo no perché sarebbe troppo sia per Montemaggiore che per Sarongarina portarla tutta al minimo impossibile perché vorrebbe dire abbassare quella della comunità più grande cioè quella di Saltara che è la più grande dove ci stanno più cittadini abbassare di molto quella vorrebbe dire perdere abbiamo fatto una botta di conti 500 mila euro di entrate e se il comune perde 500 mila euro di entrate poi non ha più i soldi di fare i servizi tocca fare una via di mezzo noi abbiamo fatto una media non c'è ancora una decisione ma tanto più o meno si va lì abbiamo fatto una previsione di questo genere tra 8 e 6 9 e 1 e 10 e 6 la media è 9 e 4 quindi c'è qualcuno 9 e 4 quindi vuol dire che quelli di cittadini di Montemaggiore avranno un piccolo ritocco al rialzo ma di 0 e 3 quelli di Saltara avranno una grossa economia perché avrebbero un ribasso dell'1 e 2 che è tantissimo quindi avrebbero un risparmio enorme la maggior parte dei cittadini di Colomettaro cioè quelli della comunità di Calcinelli e Saltara chi in questo caso ci rimetterebbe di più sarebbero quelli della comunità di Sarungarina e Tavernelle perché dall'8 e 6 andrebbero al 9 e 4 0 8 in più vediamo come poterli limare ma la storia temo che sia più o meno questa cioè siamo obbligati a fare una sola tariffa se noi la portassimo tutta al minimo ripeto perderemo più di 500 mila euro d'entrate non ce lo potremo permettere comunque dal prossimo anno dal prossimo anno perché sul bilancio del 2020 noi metteremo questa uniformità di tariffa è ora di farlo ed è giusto farlo potremmo aspettare ancora un anno ma non cambierebbe la storia cioè sarebbe solo un rimandare quindi ci sarà un beneficio per la maggior parte dei cittadini di Collomettaro però ci sarà un sacrificio per una parte dei cittadini di Collomettaro purtroppo quando si fanno le fusioni tra comuni queste cose vengono fuori perché non tutte le realtà erano uguali Terre Roveresche che ha fatto una fusione come Collomettaro tutte queste cose le aveva fatte prima prima cioè i quattro ex comuni avevano uniformato le tariffe avevano uniformato la raccolta differenziata avevano uniformato i regolamenti quando è arrivato Sebastianelli un amico il collega sindaco ha fatto il sindaco di un comune è arrivato a Gozze sta facendo il sindaco di tre comuni perché ancora era tutto da mettere insieme li stiamo mettendo insieme e sarà in alcuni casi anche purtroppo diciamo spiacevole per una parte dei cittadini e invece molto positivo per un'altra parte del resto la fusione l'han fatta l'han voluta come si dice non è che possono quindi bisogna farlo anche in modo obbligatorio per legge non è che possiamo scegliere se farlo o meno io ringrazio intanto tutti i nostri telespettatori per averci inviato tanti messaggi vi chiedo scusa se non siamo riusciti a leggerveli tutti ma siamo davvero in ritardo grazie anche a Riccardo Sore e Cristiana Guerra in regia sindaco grazie per essere stato grazie a voi disponibile quando volete a dare i chiarimenti che servono alle richieste giuste di tanti cittadini che le possono portare avanti grazie grazie davvero fra poco va in onda il telegiornale di mezzasera domattina appuntuale alle 7 l'informazione che torna in diretta con la nostra rassegna stampa Occhio e Giornali arrivederci